lunedì 4 maggio san silvano è il cento venticinquesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 241 al termine il sole sorge alle 5 54 tramonta le 20 e 22 la luna sorge alle 16 34 tramonta le 4 e 37 ordinata la ricostruzione delle mura di capodistria abbattute dai veneziani il 24 febbraio dell'anno precedente le previsioni per domani precipitazioni assenti numerosità in aumento nel corso della giornata temperature in aumento